Ciao a tutti, oggi prepariamo il tagine, è un buonissimo e bellissimo piatto con la carne e verdure e per preparare questo piatto servono le verdure e la carne e il tagine allora per prepararlo servono questi ingredienti la carne di manzo o di vitello o quello che abbiamo possiamo usare anche pollo, l'olio extravergine di olive, le patate tagliate specchi, gli zucchini verdi, i taroti la quantità dipende a quante quante persone o al tagine che abbiamo se grande o piccolo di cipolle poi piselle e poi pomodori e per il peperoncini quelli verdi sono facoltative non importa aglio due specchi d'aglio grattugiati un po di prezzemolo l'olive e poi zenzero pepe sale un po di curcuma e di paprika ora passiamo a prepararlo insieme allora la prima cosa che dobbiamo fare pulire il tagine asciugare e poi un po d'olio e poi la carne per gli ingredienti gli spezzi con il prezzemolo mettiamo solo la mità perché la metà serve dopo l'olio mettiamo tutto e poi aggiungiamo gli spezzi la metà le cipolle anche un pochino tipo una cipolla l'altro lo mettiamo dopo abbiamo detto la metà gli spezzi mi raccomando sempre prima di mettere il tagine dobbiamo mettere qualcosa di ferro sotto anche una padella vecchia se ce l'abbiamo a casa e questo così non si rompe il tagine ora passiamo a preparare gli spezzi per metterli sopra le verdure la metà che è rimasta mettiamo tutti gli spezzi e poi aggiungiamo un pochino d'acqua due o tre cucchiai d'acqua dopo 10 o 15 minuti cominciamo a girare un po' la carne con gli spezzi a girarlo sul fuoco a questo modo qui ora cominciamo a mettere le verdure sempre le verdure quelle che ci vuole tempo di più per la cottura le mettiamo di sotto e poi quelle che si cosciano subito le mettiamo di sopra ora le carote e ora mettiamo le patate e poi dopo le zucchine e ora è pomodori e poi alla fine mettiamo i piselli e ora aggiungiamo gli spezzi che abbiamo già preparato con l'acqua così dà un po' di sapore anche alle verdure e ora copriamo il nostro tagine e lasciamo lo coccere circa un'ora dopo un'ora aggiungiamo quello che è avanzato le olive con il prezzemolo con un peperoncino possiamo anche coprire il tagine prima con una carta di forno e poi dopo mettiamo il coperchio del tagine perché questo aiuta per coccere meglio e dopo un'ora il tagine già cotto le verdure e anche la carne ora aggiungiamo quello che è avanzato le olive con i peperoncini verdi quello è facoltativo poi aggiungiamo un po' d'olio d'oliva e lasciamo coccere di nuovo circa 10 o 15 minuti copriamolo di nuovo con la carta e poi il coperchio e lasciamo 10-15 minuti ora il nostro tagine pronto ci vuole un po' di pazienza per preparare questo piatto almeno un'ora e mezzo fino a due ore per essere pronto oggi ho deciso di preparare il tagine con le verdure sulla richiesta di una signora italiana che voleva fare una cena marocchina con le sue amiche se troverete che questo video sia utile mi raccomando iscriviti e attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei video e se il video vi piace lasciatemi un bel like ciao al prossimo video